L'opera di Sidney compie 40 anni, pensata dal danese Johan Hudson, fu completata da tre suoi colleghi a causa di dissidi col governo australiano nel 66. Non fu nemmeno invitato all'inaugurazione, torto rimediato in seguito alla cerimonia c'era suo figlio. Si tratta di una espressione australiana unica di volontà ed entusiasmo. Di quello spirito andiamo e facciamolo, che era così forte in Australia negli anni 60. Situata nel mezzo della baia di Sidney, l'opera può ricordare una flottiglia di vele diretta verso il porto. Ogni anno ospita più di 1600 rappresentazioni, viste da un milione e duecentomila spettatori circa. Ancora di più sono i visitatori oltre otto milioni all'anno. Dal 2007 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO come una delle principali opere di architettura del XX secolo.